buon pomeriggio comunicazione velocissima mi ha avvisato adesso jack che sono cominciate le lavorazioni quindi controllate se avete lo speed o se avete il pin per accedere direttamente al sito mobile se la vostra pratica in lavorazione poi ragazzi non state lì ogni cinque minuti ci vorranno ora ma che esca l'esito e altre e poi serviranno anche altre ore prima che esca la disposizione apposte e fatemi sapere qual è il risultato cosa vedete comparire perché non so cosa dirvi ragazzi io sono amareggiato sono triste e sono arrabbiato però sarebbe ora veramente di arrabbiarsi ragazzi non si può continuare così pensate che a tutte le a tutti voi che resterete abbandonati a voi stessi e cominciamo organizzare qualcosa di serio ve l'ho detto se c'è da litigare io sono pronto a venire litigare prendermi tutti gli accidenti del mondo ma non voglio fare la figura dell'unico fesso quindi o si fa una cosa insieme non si fa seguamente o io non so se la rassegnazione ha portato a questo sarebbe ora veramente di scendere in battaglia e quando si scende in battaglia si deve scendere con il fegato ciao a tutti ragazzi fatemi sapere avvisate elena avvisate radiuci avvisate mister lui e poi fatemi sapere quando usciranno gli esiti ciao a tutti